Musica Elezioni di metà mandato dell'ufficio di presidenza nel segno della continuità, confermati il presidente Mazzeo e i vicepresidenti Scaramelli e Casucci. Approvata a maggioranza la variazione al bilancio di previsione, stornate alcune voci di spesa per circa 47 milioni di euro per far fronte ai maggiori costi della sanità. Si unanime alla proposta di legge sull'agricoltura sociale che istituisce l'elenco regionale delle fattorie sociali. Nel segno della continuità A larga maggioranza, con 36 voti su 40 partecipanti e il primo turno di votazione, Antonio Mazzeo è stato rieletto presidente del Consiglio regionale della Toscana nell'undicesima legislatura. Oltre ai voti di preferenza raccolti da Mazzeo, ci sono stati due voti per il consigliere Francesco Gazzetti, un voto nullo ed una scheda bianca. La votazione sul presidente del Consiglio regionale è stato il primo atto delle operazioni di voto per il rinnovo dell'ufficio di presidenza, previsto dal regolamento interno giunti alla metà della legislatura. Sento un forte carico di responsabilità. Quando l'Assemblea legislativa ti elegge nella maniera in cui sono stato eletto oggi, mi dà il senso di quanto sia importante il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni e mezzo, con serietà, con impegno, con rigore, con passione, insieme a tutti gli altri colleghi dell'ufficio di presidenza, che ringrazio. Noi, davanti a noi, abbiamo due anni e mezzo ancora molto complicati. Usciamo dalla terribile pandemia, i primi mesi difficili, portati avanti da tutti con grande serietà. Lo scoppio della guerra con tutto quello che ha significato, sicuramente perché le nostre coscienze sono state scosse, ma anche per quello che poi ha significato nella vita di ogni giorno delle cittadine e dei cittadini della nostra regione. La Toscana è sempre stata una terra d'accoglienza, una terra aperta, inclusiva e vuole continuare ad esserlo. La proposta di riconfermare Mazzeo alla presidenza del Consiglio regionale è stata avanzata in aula da Vincenzo Ceccarelli. Hanno annunciato voto favorevole tutti i gruppi politici attraverso i consiglieri Elisa Tozzi, Silvianoferi, Maurizio Sguanci, Elena Meini, Marco Stella e Francesco Torselli. È un riconoscimento alla competenza, all'equilibrio che è stato utilizzato per condurre i lavori dell'Aula e noi crediamo che questo continuerà e probabilmente si rafforzerà anche in futuro. Abbiamo anche raccomandato di recuperare il regolamento che deve avere dei miglioramenti per poter rendere i lavori dell'Aula più efficienti e più efficaci e siamo certi che questo lavoro verrà fatto coinvolgendo tutto il Consiglio. Subito dopo l'insediamento di Mazzeo sono stati eletti i due vicepresidenti. Il voto ha riconfermato Stefano Scaramelli, che ha ottenuto 21 voti, e Marco Casucci, che ha ottenuto 13 voti. L'esito della votazione ha fatto registrare anche due schede bianche, due preferenze per la consigliera Irene Galletti, un voto per Elena Rosignoli e un voto per Diego Petrucci. Un segnale importante è che consolida una maggioranza solida a livello regionale. Ringrazio le colleghe e i colleghi del Partito Democratico per la fiducia che mi hanno concesso. Ringrazio il collega Sguanci. Si consolida la maggioranza di centro-sinistra nel governo della nostra regione, si consolida e si rafforza il governo Gianni, nel contempo la mia figura di carattere istituzionale, a garanzia di tutto il Consiglio regionale, di tutti i cittadini toscani, quindi la capacità di incidere nei processi dell'Aula, nella presidenza dell'Aula, in tante iniziative istituzionali che ho sostenuto nel territorio, con il quale ho collaborato con Antonio Mazzeo, presidente, anche lui riconfermato, e nel contempo ovviamente a sostegno di una maggioranza che si consolida con questo voto, che compatta quindi questa nostra coalizione. Far parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana è un grande onore, ma anche ci spinge a dare il meglio di noi stessi e a migliorarci giorno per giorno. Siamo al servizio dei toscani e lo stiamo dirigendo la macchina del Consiglio regionale, facendo gioco di squadra quando va fatto. In effetti siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme agli altri per proposte unitarie che sono state poi approvate dall'Aula. Mi riferisco in particolare sull'avanzo di bilancio. E al tempo stesso abbiamo svolto con puntualità il nostro compito ispettivo affinché tutto potesse procedere nel modo migliore con la massima trasparenza. La composizione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale si è completata con l'elezione dei due consiglieri con funzioni di questori, per il cui ruolo l'Aula ha votato Francesco Gazzetti, che ha ottenuto 19 voti, e Marco Stella, che ne ha ottenuti 13. Credo che ci sia questa ulteriore e rinnovata possibilità di potenziare il lavoro dell'ufficio di presidenza e voglio evidenziare il buon lavoro che è stato svolto dalle colleghe e colleghi del precedente ufficio di presidenza. E adesso l'innesto di Marco Stella e anche l'arrivo di questa nuova figura del questore sicuramente ha una volontà precisa, quella di potenziare e moltiplicare anche le possibilità di copertura del territorio. Insieme al collega Gazzetti andiamo a ricoprire questo nuovo incarico che c'era già nella ottava legislatura, poi con la modifica del numero dei consiglieri fu tolto. Abbiamo individuato questa modalità di lavoro insieme, cioè l'allargamento dell'ufficio di presidenza, non perché vi fosse soltanto un'esigenza di carattere numerico, ma perché ci siamo resi conto che l'ampliamento dell'ufficio di presidenza corrispondeva ad un'esigenza di snellimento del lavoro, corrispondeva insieme anche all'istituzione della fisugura del sottosegretario ad un rapporto diverso fra ufficio di presidenza, giunta e lavoro del Consiglio giocionale. Non scordiamoci mai che noi viviamo una fase in cui c'è stato un taglio drastico del numero dei parlamentari. Pensiamo a quanto ha inciso sulla rappresentanza delle elettrici e degli elettori toscani, a quanto è inciso nel rapporto fra cittadini ed eletti. Noi pensiamo che nell'allargamento dell'ufficio di presidenza non solo c'è una rappresentanza ulteriore con l'ingresso di Forza Italia, delle forze politiche in quell'ufficio lì, ma c'è anche un modo diverso di lavorare. Nel segno della continuità con l'ufficio di presidenza uscente, anche l'elezione dei due consiglieri segretari, dove l'Aula ha votato la riconferma della consigliera Federica Fratoni e del consigliere Diego Petrucci. Favorire anche iniziative che promuovano i principi statutari del nostro ente, quindi grande attenzione ai valori dei diritti, all'economia circolare, alla sostenibilità, ai temi del momento. Porteremo avanti questo lavoro avviato sulla immagine di una Toscana 2050, quindi disegnando anche traiettorie nuove di sviluppo e lo faremo ovviamente in un'ottica, come dicevo, di collaborazione che va oltre i colori politici. Ho voluto sottolineare il fatto che in questo ufficio di presidenza io sono l'unica rappresentante femminile e questo deve ovviamente impegnare ancora di più i lavori dell'ufficio e del consiglio tutto a favore appunto di una parità di genere effettiva. Un onore grandissimo rappresentare il consiglio regionale della Toscana nell'organo di governo, lo facciamo in maniera penso il più istituzionale possibile perché non è quello il luogo della contesa politica, l'agone politico ci deve essere, anche duro, anche rigido, sicuramente in certi momenti radicale, ma questo deve essere fatto nelle commissioni dove si discutono le proposte di legge e le linee di governo della regione toscana, sicuramente nell'aula del consiglio regionale l'ufficio di presidenza è un altro ambito nel quale dobbiamo invece decidere le regole che valgono per tutti e in quel momento dobbiamo avere un atteggiamento il più possibile super partes anche riuscendo a spogliarsi delle proprie appartenenze politiche e avendo appunto come obiettivo comune l'interesse dei cittadini toscani. Bilancio variazione per la sanità Il Consiglio regionale della Toscana vara la prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, annualità 2023 della regione. Il provvedimento passa a maggioranza con 23 voti favorevoli e 12 voti contrari. Come illustrato in aula dal presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani, si tratta di modifiche agli stanziamenti di spesa che lasciano sostanzialmente inalterati i volumi complessivi del bilancio. La razio dell'operazione è riacquisire risorse per garantire l'equilibrio economico al bilancio della sanità della regione toscana. Si tratta di una traslazione di risorse per quasi 47 milioni di euro che passano dal titolo spese correnti a spese in conto capitale. Circa 9 milioni di euro sono recuperati dalla disponibilità dei fondi di riserva mentre il resto, quasi 38 milioni di euro, da risorse regionali di spesa corrente accantonate a garanzia del pagamento delle rate di mutuo del servizio sanitario. È nota a tutti che la sanità dopo la pandemia ha registrato forti perdite quindi c'è un impegno da molto tempo da parte della regione toscana come del resto da parte anche delle altre regioni italiane a recuperare risorse. Con questa variazione si fa proprio quest'operazione. Si vanno a recuperare una serie di risorse dai fondi di riserva e anche dalle somme che erano state poste a garanzia dei debiti che erano stati contratti dagli enti del servizio sanitario nei confronti di cassa depositi e prestiti e coperti dalla garanzia della regione attraverso le lettere di patronage per un recupero che si avvicina ai 47 milioni di euro, 46,92 milioni di euro. Queste risorse recuperate dagli accantonamenti e dalle riserve vengono oggi destinate al servizio sanitario regionale. Una misura importante, necessaria e che dimostra come la regione stia con senso di responsabilità affrontando il tema dei costi della sanità per continuare a garantire i servizi ai cittadini. Una valutazione pessima, nel senso che c'è bisogno di fare questa variazione di bilancio perché c'è un buco da 850 milioni di euro fatto dalle giunte di sinistra della regione toscana in ambito sanitario mi riferisco al payback e quindi allo sforamento della spesa in ambito sanitario rispetto alla quale la regione toscana riesce a metterci una pezza cioè non viene commissariata semplicemente perché il governo Meloni ha messo più soldi nel Fondo Sanitario Nazionale. Il governo Meloni è il governo che nella storia ha messo più soldi in dotazione alla sanità italiana chiaramente di quella Fondo ne viene una quota parte anche alla regione toscana e così riesce la regione in parte a coprire i propri danni fatti in questi anni danni che sono sotto gli occhi di tutti voi pensate che in Toscana ci sono circa 2000 primari c'è un primario ogni 10 posti letto un primario ogni 10 posti letto quindi quando l'assessore Bezzini e il presidente Gianni chiedono più soldi noi vorremmo sapere più soldi per fare cosa? Per fare il 2000esimo primario? Per aumentare ancora un posto di governo dentro la sanità? O per fornire più prestazioni come in realtà non vengono fornite? Considerando che dal 1970 la sanità toscana con i suoi vari buchi, scandali numero di primari assolutamente in sovrannumero rispetto ai posti letto problema di personale, di os la vita indipendente, il CUP che ancora non funziona Corte dei Conti che scrive centinaia di pagine per attaccare il sistema di gestione delle liste d'attesa vedere adesso che si devono fare degli stanziamenti straordinari significa soltanto una cosa, che c'è una mancanza di capacità di programmazione e di organizzazione Sostanzialmente si continua a navigare a vista ci sono difficoltà, lo sappiamo per quanto riguarda i ricorsi delle aziende farmaceutiche per i payback sanitari sono state messe a credito vedremo se riusciremo a incassare tutte le cifre che sono state messe a bilancio nello scorso anno la preoccupazione permane, manca la programmazione, manca la strategia abbiamo necessità di far ripartire la nostra regione invece vediamo il PD sempre più buttarsi a sinistra è una relazione molto importante che mette in sicurezza i conti della sanità che conferma quello che Italia Viva ha sempre detto in Toscana che i soldi c'erano, le risorse erano possibili da trovare per cercare di mettere in equilibrio i conti della sanità che non serviva a aumentare le tasse su questo ne abbiamo fatto una battaglia identitaria del nostro partito io in primis durante la sessione di bilancio ho sempre rivendicato il fatto che non servisse a aumentare l'addizionale IRPEF che le risorse si potessero trovare oggi queste risorse vengono trovate La Giunta oggi per l'ennesima volta ci presenta appunto un intervento sul bilancio di nuovo a tamponare una situazione io ricordo che dal 2021 ormai siamo a 203 milioni di euro che noi abbiamo messo in una situazione sanitaria sulla quale ancora non si riesce a capire che cosa realmente voglia fare la Regione io credo che qualsiasi appello che viene fatto a maggiori risorse dal Governo seppur legittimo naturalmente non può però determinare un nuovo a montare di risorse destinate alla Toscana che però non vengano diciamo destinate nel modo giusto quindi incanalate con una programmazione lungimirante questo in due anni e mezzo noi non lo abbiamo visto e il rischio è che davvero a chi verrà dopo si lasci in eredità una situazione contabile assolutamente pesante le fattorie sociali si unanime con 32 voti alla proposta di legge sull'agricoltura sociale illustrata in aula dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Bugetti la legge istituisce l'elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale denominati fattorie sociali e prevede le procedure e gli adempimenti per lo svolgimento di queste attività per favorire il riconoscimento degli operatori di agricoltura sociale e per promuovere l'integrazione delle attività sociali sul territorio queste attività mirano all'inserimento sociolavorativo di lavoratori con disabilità soggetti svantaggiati i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale e ancora di rifugiati ed immigrati di soggetti affidati in prova ai servizi sociali condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale oltre ai NIT i giovani né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione infine ci si rivolge anche a progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare e alla salvaguardia della biodiversità è una legge molto importante e direi anche molto attesa da tutto il settore sia delle associazioni di categoria legate all'agricoltura ma anche del mondo sociale perché è una legge che modifica una legge precedente dando degli obiettivi ben precisi quindi si parla prima di tutto di formazione degli operatori che possono accogliere i ragazzi dell'integrazione con i servizi sociali e soprattutto di un elenco delle fattorie didattiche quindi delle fattorie sociali a cui possiamo rivolgersi anche con la somministrazione di cibo e quindi diventa una piccola davvero attività anche di accoglienza dove ci sarà l'inserimento appunto di persone con disabilità che potranno essere sicuramente messe alla prova sia nel lavoro dell'agricoltura ma anche nel lavoro della somministrazione di cibo quindi è un progetto molto bello che parla di integrazione vera a tutte quelle fragilità riscoprendo un mondo e valorizzando quella che è la nostra bellezza e il nostro paesaggio della regione toscana andiamo un pezzettino più avanti rispetto alla legge nazionale arrivando appunto anche alla definizione di questo logo che sarà riconoscibile e quindi con un percorso di qualità di controllo da parte della regione toscala in modo che ci sia una mappatura di tutte le fattorie in tutta la nostra regione Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori